allora ragazzi scusate perché proprio prima non so perché e mi ha fatto mandare il video quello del continuo della bicicletta però comunque questa è la mia bici andate perché non l'avete vista comunque questa guardate la mia natale copertone così va nella terra della sabbia nel fango nell'asfalto è una bellissima bicicletta ai freni c'è scritto snowball se vedete guardate adesso c'è snow ball significa paladinare come marca un'ata la altra normale è verde kawasaki guardate che bella catalitrangenti ne avevamo avanti uno dietro siccome sono rotti proprio si sono rotti poi c'è il freno guardate è super compatto strafigo dato vediamo se riesco a allora riesco a tenere il terreno vediamo se qua non lo teniamoci forte bellissima io non ci faccio collegare vi faccio guardate vi faccio vedere subito vedete la sopra io ovviamente vado la sopra il garage e poi tutto 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 fino alla sotto ci saranno tipo 100 metri un 100 metri minimo 100 metri cosa minimo 100 metri di cosa qua ragazzi questo video è tutto mi raccomando alle 5 40 sembra un nuovo video ho visto che arriviamo sempre tardi invece alle 5 lo facevano alle 5 40 sempre di 40 quindi da oggi sono 5 40 ogni giorno quindi mi raccomando iscrivetevi e commentate anche su quale bici avete voi o quale vi piacerebbe avere io la porto senza questa rotella ovviamente ovviamente perché ho 10 anni con la rotella mi riporterebbe mai bene ragazzi questo video è tutto iscrivetevi al canale lasciate like e attivate la campanella e attivate la campanella se non ve l'ho detto un pochetto america per un video in piscina un vlog in piscina che dire alla prossima